Qua bisogna mettersi, adesso per un po' più fresco, mettersi fuori in pace, a piedi, la domenica lì si può fare più. Ma io ce la faccio proprio più ragazzi. Vabbè siamo arrivati. Sì, l'hai detto anche prima. Adesso c'è quello del gatto, poi c'è quello del diavolo. Ma non posso fare quello dell'ermellino sottomita. Il problema è l'ermellino. La zanzara me ne vado a casa. Oh! Guarda l'asfalto. Questa è quasi finita. Con l'ermellino che vuole stavo lì. Il carmellino si va vinta. Non ce la faccio. Voglio l'asfalto. Questa è quello che scriveva, non vedo l'ora della foretria. Adesso scendiamo qua e in strada. Poi a sinistra, poi a casa. Ci conviene... No, va bene, noi facciamo noi. C'è quell'altro da salire dopo, eh? Eh, eh. 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 Lui arriva 10. Noi finiamo. Ma come è colto? Eh sì, sono veramente... Ho cominciato per il fiasco quello con le ventoline. Sono veramente arrivato. Cominciato per il calcio anch'io, eh. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.